I festeggiamenti di San Sebastiano 2015 penso che siano stati portati a un livello di serie A dopo aver dato una mano sostanziale ai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso che adesso impeccabilmente li porta avanti il mio collega Cosimo Ramundo devo dire che anche la festa di San Sebastiano siamo riusciti finalmente a farne di una festicciola una vera festa questa sera è una dimostrazione dell'affetto della gente che poi è venuta e ci ha dato anche una mano soprattutto i commercianti non solo ma anche i mercatini che hanno voluto partecipare tutti gli esercenti che hanno voluto chi più chi meno partecipare e darmi veramente fiducia in questa festicciola in quello che io poi ci credevo veramente diciamo queste canzoni di questi ragazzi di Galatone e Nonno che ci stanno delizziando in questo momento lasciano un po' a bocca aperta tutti quanti ci sarà subito dopo la cantante Fior Daliso che io ho voluto con forza qui nonostante il tempo e che tra poco ci delizzerà con le sue canzoni e poi il tradizionale sparo di la freccia che insomma abbiamo un po' tribolato ma sostanzialmente si farà e si farà alla grande